la spalla è quasi il cuore della spalla diciamo se tu vuoi dare più risalto alla foto allora fai una foto più grande altrimenti potrei mettere un tifano il titolo più stretto a fare una foto più verticale e allora tirai uno spazio per la spalla questa è la 3 diciamo la 2 apertura spalla taglio è abbastanza 1.60 in questo pezzo sempre è tanto questa è la 2 scuola solo 3 terzi e poi diciamo che questa è la 4 e avete due pezzi apertura spalla più un dossier un focus cioè 4 punti da isolare voi potete scegliere di fare un approfondimento anche tecnico su un aspetto della giornata che secondo voi è particolarmente interessante e questa è la 4 quindi abbiamo 3 3 6 e 2 8 contro i 10 pezzi che avete voi perché lo spazio non è sempre quello che che voi desiderate